Antonio sicuramente è un amico e questo prescinde poi dalle scelte politiche ed è un bravissimo sindaco. Ieri sera sono arrivata a Bari e gli ho fatto i complimenti perché ho visto una città intanto piena di gente in giro, famiglie, giovani, tanti turisti. Veramente quest'anno credo che l'arrivo anche di turisti da fuori, di stranieri sia stato significativo e soprattutto in questa zona della città veramente un salotto a cielo aperto. Quindi chiaramente noi facciamo il tipo perché venga in Italia viva, però rispettiamo le scelte chiaramente di Antonio. Io ho provato a invitarla a cena, ieri sera siamo stati a cena e ho provato a convincere a tornare nel Partito Democratico, non ci sono riuscito. Continueremo nel nostro ruolo in due partiti diversi a cercare magari di tenere vive le idee che ci hanno accumulato negli anni passati. Io poi come ho detto spesso da quando faccio il sindaco, da quando faccio il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, non mi occupo più nemmeno di politica partitica di livello nazionale, però ho detto a tutti che il resto nel partito è dove sono nato e dove sono cresciuto.